buongiorno è alle 6 del mattino il conte cosa fotografa delle mongolfiere ragazzi dal ponte della nostra motonave stiamo per scendere a fare colazione vero mo tutto gratis del conte che fotografa le mongolfiere e niente ragazzi noi anche oggi pronti stiamo per scendere a fare colazione una vacanza fantastica magari con mangiare un poco vabbè comunque questo purtroppo è di queste zone così cucina una così e pronti per un'altra escursione quindi pronti per un'altra giornata e pronti per altri video a tra poco il conte fotografa sempre impegnato scelta anzi a tra poco con colazione che mi faccia vedere scelta a tra poco guarda che spettacolo panorama non ci sono parole scelta a tra poco